buon salve ciao benvenuti a tutti dal nonno dai io non ci sono dai lui non c'è e neanche io sono solo anzi no c'è un'amica ciao ok almeno io sono in presenza a vero salutato lui è in dad oggi come mercoledì un sacco di novità un sacco di nuovi arrivi spaziamo dai giochi all'action figure passando per manga e comics ma veramente un sacco un sacco di roba simpatica non lo so giuro sono in confusione perché non saprei da dove partire vediamoci l'ospizio perché sotto abbiamo altri scatoli comunque arriverà giovedì e venerdì venerdì hanno all'ottanta per cento i nuovi altri numeri perciò tra tre giorni di seguito e lunedì 3 si lunedì 4 da lunedì questo lunedì lunedì 4 fino a mercoledì che poi riapriamo mercoledì o da lunedì a non mi sono persi i giorni da lunedì a martedì siamo in ferro mercoledì è riaperto ma quale lunedì vuole il martedì martedì e io non c'era il telefono come ho fatto io basta chiedere ti stai chiedendo rispondi allora da lunedì 4 ok 2021 ci siamo rubati un gioco alle ferie visto il lunedì 4 è chiuso mercoledì e 13 da lunedì a martedì 12 ci siamo rubati un giorno anzi due già perché lunedì che partiva dalle 3 di ottobre e ho capito però non è ferie è diverso come siamo rubati i giorni ragazzi chi lavora in un sindacato mi aiuti ho detto questo dal 4 al 12 siamo chiusi chiusi per ferie quindi riapriremo il 13 con secondo me un sacchissimo veramente perché poi saremo mercoledì giovedì ci riprenderemo quello questo e maria stella io sarei solo per maria stella poi la conosci penso di sì e quindi non vi preoccupate tutta la roba sarà in casella se volete in questi giorni venite a trovare per recuperare quello che c'è e poi ritornate tra dieci giorni poi saremo sempre attivi sui social ogni giorno alle 14 un video faremo sabre domenica i tornei pokemon yugioh e magic e poi ripartiamo con tanti altri eventi molto simpatici e promozioni seguiteci sui nostri social vai però che cosa è arrivata allora partiamo da la sera allora da te che sto da a fare per questo che sta bene sembri la mente partiamo dalla mentela vai va bene che sono arrivati team tutto quello che volete grazie conami però se tanto volete controllate veramente le persone che li vendono prima non è che parlate con tutti e poi stanno comunque in medita già da tre giorni tanto niente finito ha finito alla ventena possiamo vedere che sono arrivati i miei tc team 2021 nella sfida tra drago bianco e maglietti ma da qui esce in Italia si 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 sta due copie adesso è come potete vedere se il nostro camera il salvio ci fa una bella panoramica ne abbiamo un sacco qui qui sotto nell'altra scatola ce ne sono un sacco se ne sono un sacco ho disponibile a limitare perché non si dà mai però è per questo domenica abbiamo anche il torneo del win a team si vincono 44 team e il titin al secondo no però si vincono i team in base al numero di personaggi iscritti e il terzo chi fa più tintini vince e che devo dire non lo dire non lo dire andiamo avanti qua abbiamo il magic con i set booster quello con tutte le carte fiche con le altre card e una foglia garantita anche come premi e poi partiamo dai garaccio la prima è quella di sasuke o la vibration star fichissima con mentre fa il chido di 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 di chido di chido di chido di chido di chido di chido di, il chido di Marronnovano No, ma era un altro... Il Millefalchi. Se no, come si chiama il suo colpo? Oh, il colpo suo, quello che fa pure la figlia. Il Chidori. Il Chidori. E il Millefalchi. Non è il Chidori. Perché non mi viene il nome. Mano elettrica. Che sai? E il Millefalchi. No, no, bravo. Non è il Millefalchi, ma allora il Chidori. È lungo, sì. L'onda energetica. Secondo me è energia asperica. Sì, potrebbe essere. È prima, perché... Sì, è prima. No, no, è la fine, è la fine. Spoiler. No, qui è già passato. Oddio. No, si scarica per te. Sì. Comunque è il Millefalchi e il Chidori. L'hanno a cancellare. Sì, il Chidori è comunque. Sì. È quello. Ok. Lo so io se ti do. No, no, ve lo scrivole con me. Allora, è il Millefalchi comunque. È il Millefalchi che fanno. Che è lo stesso che fa pure Kakashi. Eh. O Kakashi le insegna. Oh, magari... No, ma non viene in mente di chi. Cioè, non lo so. Lo so a memoria, Naruto. Sì, grazie, anch'io. Però il Millefalchi, il fatto che strida, perché il rumore dei falchi... No, no, perché ci sono Millefalchi. No, perché fai rumore. No, perché fai rumore. Eh, sì. Eh, lo so. No, perché se vedi la scena di Boruto si vede in piedi. Sì. Non viene in mente i loro chitori. Sono quello. Questo è un altro figo. No, però cambia. Sì, sì. È diverso la presa. Se ci sta le spalle, qua si aggiusta i polsini. Somma, quello che abbiamo capito, dico che sia giusto. Almeno, sì, sì. Bellissima lei. Eh, figa. Oh, come si chiama? Ah, io non lo dico, sennò che abbiamo un dibattito. Dai, guarda, perché non posso così girare. Però sta scritto qua, guarda, è scritto qua. Ma perché è tutto giapponese? Basta. Un altro goku. Questo si sta ancora aggiustando. Però, aspetta. Scusa, no? Ah, queste Super Saiyan, queste non vado. Eh, perché si aggiusta sia da Super Saiyan, anche da Super Saiyan. Ormai. Superman. Superman Samurai. Fighissimo. Samurai Hero. Questa quando va in Giappone. Eh, perché è ovvio. Questa è la moglie di Bazzi. Oh no, la... No, no, no. Di Woody. Di Woody. Sì, sì. No, sì. Sì, di Woody. Sì, sì. No, sì. Sì, di Woody. Sì, sì. Sì. Sì, di Woody. Sì. 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 Il padre era Mike. Eh, sì. 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 E poi c'è... Ma lo fanno apposta tutti quanti a mettere i nomi con JJ. Gigi. Poi bellissimo. Totoroki. Shoto. E... Ox. Ox. Falco. Un italiano. Un italiano. E poi... Delle simpaticissime... Dei simpaticissimi peluche. Piccoli piccoli di Mairo. Dei nostri personaggi più importanti. Ma chi c'è? Pure Toga. Vediamolo. Ma magari c'è una da vendere completa, la collezione. Eh, il case. Eh, il case. Senti che però non trovi. Ma sono uguali. La cross house. Ma che giorno andavo giocando? Sì. Ah, ma sotto uno c'è scritto speciale. Ah, no. Allora, c'è... C'è... Bagugo. Almaito. In... I... Dici, dici. No. Cosa? Lei? Ah, ci... No, aspetta. Come cazzo? Eeeh! Umidoria. Vabbè, il protagonista. Sì. Vabbè, da qualche parte ci sono scritti. No. Guardate in tre paese. Poi c'è la rana. Sull'etichetta sta scritto. Grazie. Eh, vabbè, i Zawa. Fighissimo. Ok. Sono quasi tutte a coppia, tranne tre. Oh... Non mi vieno, te lo dico. Vieno. No. Eh, no. Eh, no. E quello mi stai rimpogliando con quello. Dai. Ok. Quella che vola. 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 Eh, no. Non lo trovo. Ok, però. Cosa molto interessante, eh. Per continuare. Manga 1. 100 bustine protettive. Non lo manca 1. Vieno. Manca 1. Sì. Questo è per tutti i manga. Cioè, per il 80% dei manga acquistabili. Ma ne manca 1. Sì. Mamma mia. Cioè, stiamo perdendo pure l'esame. Cioè, non era mai conosciuto il zitto, davvero. E poi, anche se non ho un gadget, però un bellissimo box. Un'ultimate box. Con tutta Silent Voice. La forma della voce. Ho degli stessi... Ho... Ho Ima. È la stessa autrice di... Do Your Eternity. Spettacolo di fumetto, però questo... Non ho più detto il tipo. No, no. No, no. No, no. No, no. Bellissimo. Eh, questo è consigliatissimo. Il box a 45 euro. Però ce la vede tutte e sette. Ah, è considerato che lui non si trova più da... Sì, storia completa. È stata pure una delle prime recensioni che ho fatto. Figo. Ok, e qua mi sa che puoi mettere un attimo... Sì, andiamo. Vai. Vai. Andiamo? Ce li siamo? Allora, partiamo con... Eh, basta. Partiamo con delle cose molto utili. Le preview. Le preview della... Bonelli e la Bao. Che non saranno a Lucca. Che figa. Guardi anche la Panini. Non ce l'ho capito. Nessuno. Poi cortiamo Lucca. Facciamo Lucca a tradi. Sono G4. C'è poco, sì. Ma la... Ma c'è poco perché non sa sull'altro il film. Non so più sull'altro. Si è venticato. Allora, poi troviamo... Harley Quinn e le Birds. Le Birds. Sempre per Future State. Batman. Superman. Yes. Il Dark Detective. Cerco di uscirle tutte almeno. Harley Quinn. Sempre per Suicide Squad. All'interno Suicide Squad. Si, per... Per... Come si chiama? Per Future State. E Wonder Woman per Future State. Comunque è la... All'interno Mubia. La... È bellissima la che l'hanno fatta. C'è la... Come l'hanno creata. Layout. Layout. E quella è la mossa di... Di legale. Poi... Della... Passiamo dalla DC alla Marvel. Con Wolverine. Siege. Siege Avengers. X Factor. X-Man. X-Sword. Poi... Luca X non c'era. Due nuove... Cioè, va bene. Due nuove... Due è non uscita. In realtà l'ha già uscita. Ma non lo so mai nessuno. Ritorno al futuro. Il... Il treno del tempo. L'ultima... Edizioni Italy Comics. L'ultima propria uscita. Poi... Vai. Questo dopo. Star Wars. Versaglio Vader. Ah, ok. Non riesco a capire. Amazing Spider-Man. 1.70. 1.80. Poi... Bellissimo. Finalmente. Finalmente. Superman Rezzon. Bellissimo. Questo super bello. In Russia. L'uovo d'acciaio. E' un eroe sovietico. A 13 ci sono dopo le persone. Però non ho voglia di... Altri due. Altri due. Rezzon. Bellissimo. E poi... Blush. 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 Che c'è una scritta giapponese. E poi si impane. Una ragazza entra dentro la fumettina. Blush. Si. Che semplice. Ha, eh ahah. Ma che simpa. No no. Quand'è? Quella era... Quella della $ please. Quella della sfBR, con il caffè. Un uomo... Un Goodbye, si vede vanichita... Che non esisteva nemmeno. Che esiste seniors. per chiamare si usava ancora la voce al massimo con il citocono chi ce l'aveva allora Francois mi viene o non è tranquillo vabbè ma è il continuo no questo è lo spinotto è un caso no è il trancheca non è facile no come la vuole d'altro la ricetta di cazzo è la numero 14 allora quello d'altro è proprio una pizza ok il nuovo movie di 7d3 sins spin off aspettando la nuova serie quella dedicata ai cavallini ho usato tutti questi spin off molto interessanti forse pure più interessanti della della serie normale un po' di guampizzo mahiro mi metto un po' di arretrati sparsi con qualche novità shaman king infatti è una novità il numero 13 arrivere nel gioco guarda ma è iniziato ah non è iniziato in un mese ha fatto solo di cibo room iq 19 iq 19 1 e 2 di raguco super boom raguco ct boom di uomo di nero e poi 7d3 sins ed è in ziro sempre come novità il numero 11 poi ci troviamo un po' di oh il 5 di mahiro ma non verrà più da ragazzina dissi che dove l'ho trovato come i tini come i tini shaman king un saluto a chi ha capito a petagna oh questo ve l'ho ascoltato che c'era un abbonamento ultramarine magro non usciva da tre anni io non sono così finito si no infatti io l'ho letto io l'ho letto fino al 7 no però c'è un panda non finisce però c'è un bellissimo panda è geniale dietro pubblicizzano a qualsiasi il gioco che è iniziato 7 mesi fa fanno un grosso ma almeno quello sarà una valli che c'è da giù si è fermato poi ah si mahiro il 29 e che luogo scusate il 5 l'ha letrato shaman king il 13 il 66 il 1 piece è figo ecco questo ve lo voglio legge perché mo sta incalzando tanto la storia secondo me succederanno come dicevo di cotte e di scotte chi? oh rufi quando chiama scosso il botto come no ah no dice di cotte e di scotte perché lui si presenta pure chiama la marina quando stanno andando a marineford si chiama marineford chiama bitmonte che figo a tutti questa è la novità della marini tanken ho rincarnato una spada questo mi piace il tema voglio vedere un po' come è strutturato il fatto della spada della fantasy tipo uno muore si rincarna poi lei ha una coda per perdere orecchie da gatto vai tra vado io andiamo con le novità qualcosa io super novità vai con le novità ma non esce comunque non esce ogni settimana esce ogni settimana impressionante riuscirà anche il quattro ancora altri così forse cercando scegliere con le novità con le novità con le novità il numero due di city run city hunter xyz faccio odiare Un bel cofanetto di Giosè, la tigre e i pesci Questo era già uscito, solo che Ce ne arrivate poche copie Abbiamo Si piante Ancora si piante Ancora faccio diare Nienkis numero 6 Nienkis numero 6 Salve Si può lasciare lì, grazie Prego Da firmare Nienkis numero 6 Oh yes, si è l'ultimo Nienkis Ah proprio l'ultimo I catti No, chiedo Capito, fine Questo è il modo di vivere dei gatti randaggia Viviamo come stelle cadenti Fighissimo Ah io mi disse Il patto di Ale Quello sempre lo faccio We were singing a love song Ah questo è quello di Ma è tutti uguali sta la parola C'è una voce da me Più o meno Avevo sentito il vento sussurrando The dream of Basta Comic can't communicate No, non posso leggere No, è ovvio Jealousie Anzi E poi Uzaki-chan Want to hang out Io avevo letto su Goi de Kani Su Goi de Kani Io quello avevo letto No, però è Uzaki-chan Oh no Se vedete è sugli occhi Si, sugli occhi Si, sugli occhi C'è scritto sugli occhi Zombie 100 numero 1 Zombie 100 numero 1 E a retratto E a retratto Si, a retratto Promised Neverland Non ho perso Però c'era Questa è il capolavoro Arte Bello, il numero 14 Arte in capolavoro Si, è molto facile Molto facile Dove stanno le retratto Come sono qua? Tokyo Ghoul 76 L'autrice Quando non fa la fine Che bello Figo Anche la novità L'immortale 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 Io mi dissocio Sempre Ragnaclinson Sempre novità Land of Lustrous 9 Sempre novità E' sempre uno spettacolo Da vedere nei copertini Si, bellissimo L'immortale Poi Ancora novità Assassin's Creed Chronicles China Blade of Shadow Quella è la variant Si, però E' fighissimo Si, però Perchè il manga della cinese? Perchè? No, no, non per la cinese Eh, perchè il manga suo E non Maga Suezio? Eh, infatti Vabbè, lasciamo mostrare No, lasciamo mostrare Ma no! No, 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 no Sono ragazzi No, no, no Non lo posso dire Comunica il communicate Numero 10 Novità Eh, ti hanno messo le salosiane Mi piace che Ezio A fare la stessa notizia Purtro Che forte Prima Questo è Yori Iori Buon giorno Chi è Yori Questa 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 è Yori Ragnaclinson Questa è Yori E poi E poi A super richiesta Blame Però questo E' lo spin off Quello del movie La fuga dei pescatori Della base elettrica Uscirà poi In cofaletto Non so se esce oggi Non lo so Arriverà Tutto il cofaletto Con la Master Edition Ok Continui tu? Sì Vado io Io Caccio un Rocky Joe Qualche arretrato Come? Eh, quindi Sono separatati Tocca la Avengers 1 e 2 Ok Dovrebbe esserci Sì Oggi Ancora Finder Numero 5 Quindi altro arretrato Lo mettiamo qui Questo è ReZero Per Stefano Given Un altro arretrato Un sacco di Given Vado io caccio un po' di Maiven Perché Guarda, guarda, sì Vediamo Ecco il momento Ancora altri Given 4, 1, 1, 4 E' il momento è Maiven Eh, va beh Ci sta Andiamo sempre Poi Ancora Given 6 E Umibeno Etangè E' l'unica matera che faceva Sto Non si dice così Com'era Figlio Digglielo Digglielo Diglielo Vinta da slime Blue Pilio Il record Of Ragnaroff Devo studiare per te Record Io ero la unica matera che mi piace Record Of Ragnaroff Ancora Ubime E' un modo so dire Oh novità, c'è una novità No, no, sono un po' scattata la pizza Purtroppo ho avuto discussioni con questo in inglese di Francesco Zombie 104 C'erano facendo un po' sull'italiano Zombie 104, super novità Vogliamo scrivere Mo Bellissimo C'è spazio? Dove puoi metterli? Oh qua qua Non diciamo cosa è strano Fico Questo lo fa schiattere le risate, è molto simpatico Bellissimo A grande richiesta, non so di tipo la richiesta c'è stata No, come no, sono numero 4, 5 e 6 E poi c'è Snizzle, è ancora Pokémon Argent Pokémon la grande avventura Ok Il sacco ancora di Mairou Mairou? Sì Mairou però qualche arretrato Numero 9 Poi ci sono One Piece 15, 13 e 18 Della bianca La blu 27 e 95 Ed The Seven and the Day Sins 2 E poi si è messo a vedere un po' Giusto per appoggiare Poi, quello che hai già fatto vedere La Joshi di... Sì, di Jesse La tigre pesce Sono James Annuals Di Pampania Pampania Land of Lustrous 9 Oh, quello è il 6 di Mairou Oltre al 5 abbiamo anche il 6 Ma il retrato E altri livello Given to the verse completa Un sacco di... One Piece bianchi C'è la versione bianca È stata 1,70, è stata 2,75, è stata 6 Mairou 5 E' il record trainer of 3 E io concludo con il Fumet Il manga sul calcio Blue Lock Ma lo avete triggerato Sì, non c'è Non c'è? No Basta 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 poi Inizio E basta Direi pure... Basta proprio Io ti ho ancora curioso di... Tra due settimane... Ti ho detto... In tua età... Vabbè, non lo voglio spiegare Dipende, dipende Oh, grazie mille a tutti Una visione Noi continuiamo a fare il nostro lavoro Ci trovate fino a domenica Tutti i giorni Tranne la domenica mattina Domenica poveriggia Anche con i tornei Seguiteci sui social Vi voglio bene E per l'olio E per l'olio